buongiorno oggi vogliamo presentarvi la nuova serratura elettrica motorizzata della cisa la cisa maievo da applicare sulle porte sulle porte blindati quindi una serratura di altissima sicurezza motorizzata e completamente automatico allora la serratura lato interno si apre con un semplice pulsante questi sono i catenacci che inghiuteggiano ecco qua la porta aperta la cosa vantaggiosa la cosa che dà molta sicurezza a questa serratura è il fatto che automaticamente alla chiusura della porta i catenacci in automatico rientrano quindi la porta sarà sempre sempre chiusa dall'esterno ovviamente la serratura ha diversi modi di apertura tastierini numerici lettore trasponder che sono questi qua trasponderino semplicissimo è molto compatto molto piccolino anche da tenere sul portachiavi oppure con la stessa piostrina ci si può anche fare l'apertura tramite scheda sempre ovviamente programmabile le piastre esterne sono disponibili in varie finiture con l'otto ortola argento nero e altre finiture la serratura si può anche aprire volendo applicando un accessorio bluetooth che in questo caso è lo slack si può aprire anche con il telefono cellulare oppure si può collegare a qualsiasi altro impianto di domodi e quindi aprirla anche eventualmente da dare modo eccolo qua ci stanno a lievo